Un documento programmatico in grado di contribuire all'integrazione dei giovani nel mondo dell'agricoltura senza dover migrare dal proprio paese, formare e creare sinergie per dar vita a nuovi scenari di sviluppo. Parte da qui l'impegno dell'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari, che in occasione del World Food Day ha voluto ospitare una nutrita delegazione tra ambasciatori e funzionari dei 15 paesi dell'Africa subsahariana, oltre ai rappresentanti dei ministeri italiani, delle affari esteri, del lavoro, delle politiche agricole e forestali. Tanto per lo IAMB quanto per questi paesi, la risorsa sulla quale investire è quella data dai giovani. Saranno loro, infatti, a dover mettere in pratica le conoscenze. I nostri ragazzi sono qui, sono dei talenti, devono essere stimolati, devono essere supportati, devono essere accompagnati. E questo accompagnamento significa anche mettere in condizione di conoscere il diverso. Noi, lo dicevo, anche scherzando, vorremmo essere diversamente intelligenti. Cioè mettere a disposizione altri strumenti, delle alternative. E queste alternative appartengono a un mondo totalmente diverso, che sta cambiando, molto difficile, ma molto bello e appassionante. L'esperienza dei giovani, tra l'altro, oggi si arricchisce anche del rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari. Le opportunità per i nostri giovani sono tante. La collaborazione con l'Istituto è per noi una risorsa straordinaria, per le aperture internazionali, per la progettualità, per la costruzione e anche di un modello di sviluppo che può giovare al nostro territorio e al futuro dei nostri giovani. Lo scambio di informazioni, quindi gli input lanciati nell'ambito di un confronto durato ben due giorni, ha fornito quegli elementi necessari allo IAM per arricchire e completare questo documento sull'agroalimentare, dove la prima mission è quella di mettere insieme mondo della ricerca con il mondo della produzione. straordinari gli scenari di cooperazione che sono stati prospettati, primo fra tutti quello con la Somalia. Per noi è stata un'opportunità e speriamo e crediamo e siamo sicuri che ne uscirà fuori qualcosa di buono, perché oltre il Mediterraneo adesso mettiamo insieme anche tutta l'Africa. Questi piccoli passi saranno grandi passi per l'Italia e per l'Africa. L'interesse dei paesi dell'Africa sub-sariana è incentivato anche dalla necessità di dare maggiore slancio e maggiore sviluppo all'economia del paese, dove, dicono, il materiale umano e la conoscenza resta il nodo principale. Il punto critico, l'elemento critico in Etiopia è proprio quello delle risorse umane, delle conoscenze. L'istituzione del SIAM potrebbe aiutare molto l'Africa a sviluppare le sue capacità grazie alla formazione non solo in Etiopia ma in tutti i paesi africani.